Buongiorno a tutti, i fatti sono noti, da ieri pomeriggio sono in auto isolamento, ho fatto questa scelta per senso di responsabilità, non tanto nei miei confronti, quanto nei confronti dei miei collaboratori, degli assessori, dei dirigenti, dei cittadini con i quali per le mie funzioni sono in costante e quotidiano contatto. Mercoledì pomeriggio a Palazzo Chigi, a Roma, ero seduto accanto al Presidente della Regione Lazio a Zingaretti, risultato poi positivo al coronavirus, anzi approfitto per formulare a Nicola gli auguri davvero più sinceri, a nome mio e di tutta la comunità siciliana, di una pronta guarigione. E quindi non appena ho saputo della positività del Governatore del Lazio, ho ritenuto opportuno come stabilisce il protocollo, informare la medicina di base e andare in auto isolamento domiciliare qui a casa mia per prudenza. Ieri sera mi hanno voluto fare il primo tampone, risultato negativo, ma dovrò farne un altro fra qualche giorno, martedì, per avere la conferma. Intanto continuo a lavorare con l'uso del telefono, degli strumenti telematici, perché il Governo della Regione non si può fermare, soprattutto in questa fase assai difficile. Poco fa ho firmato una ordinanza con la quale pongo ulteriori ristrettezze a chi nelle prossime ore o da ieri ha deciso di fare il rientro in Sicilia, perché pare che dal nord ci sia questo controesodo, soprattutto dalle zone cosiddette rosse delle tre regioni del nord. Verrebbe facile dire quando due settimane fa ho messo in allarme su questa imprudente scelta, sono stato aggredito dai soliti sciacalli, insomma ne abbiamo tanti in giro. Però adesso tutti mi danno ragione, i colleghi del sud, i colleghi governatori, a cominciare dal collega Emiliano della Puglia, stanno adottando le stesse ordinanze. Vogliamo soltanto dire a chi pensa di tornare in Sicilia di farlo con assoluta prudenza, per evitare di dover portare da noi il virus inconsapevolmente naturalmente. Quindi chi proviene da quelle zone deve avere l'accortezza di avvertire anzitempo il medico di famiglia o di telefonare alle strutture nostre sanitarie che sono preposte a questo compito e di mettersi in auto-isolamento esattamente come ho fatto io. Se serve poi si procede con le fasi previste dal protocollo. Però per fare questo serve autocontrollo, serve senso di responsabilità, ci vuole anche la vigilanza delle forze di polizia ed è per questo che noi ci saremmo aspettati dal Ministero dell'Interno una disposizione che mettesse gli uomini in divisa nelle condizioni, nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, soprattutto nello stretto di Messina, nelle condizioni di potere vigilare per il rispetto della ordinanza. Lo abbiamo chiesto anche stamattina, io sono convinto che prevarà il senso di responsabilità. Si tratta di un momento difficile che dobbiamo sapere affrontare tutti, senza farci prendere dalla paura. Da resto noi siciliani abbiamo superato tante calamità nella millenaria plurisecolare vicenda umana. Siamo rotti a tutte le esperienze, siamo forgiati per affrontare tante criticità, ma serve il senso di responsabilità, senza perdere la testa, senza farci contaminare dal virus della paura. Dobbiamo essere prudenti, dobbiamo essere guardinghi, dobbiamo adottare ogni cautela e la più importante è appunto quella di dover comunicare che si proviene da zone dichiarate contagiate e quindi chiudersi in quarantena per evitare, per il periodo previsto dall'Istituto Superiore di Sanità, evitare il diffondersi del contagio. Io continuo a lavorare qua da casa mia, fra i miei libri e le mie carte, non ci possiamo fermare un attimo. Andiamo avanti, vediamo quello che accadrà martedì con il mio secondo tampone. Voglio rassicurare tutti i miei collaboratori, le persone con le quali sono stato in contatto in questi giorni. Voglio ringraziare la protezione civile, l'apparato sanitario, l'assessore alla salute e razza, i dirigenti, i medici, il personale paramedico, i volontari. Ognuno sta facendo un grande lavoro, ma anche i nove prefetti dell'isola con i questori e le forze dell'ordine. È un momento difficile, ma proprio perché è difficile, dobbiamo essere presenti ognuno alle proprie responsabilità. Vi voglio bene tutti, a presto.